Striscia la notizia 2018 anticipazioni, l'addio di Ezio Greggio, ecco chi lo sostituirà a colpo di scena alla guida di Striscia la notizia, lo storico telegiornale satirico di Canale 5 in onda con successo nella fascia oraria dell'ex Esprime Time. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dal prossimo lunedì 8 gennaio ci saranno dei cambiamenti alla guida del programma Mediaset, che non sarà più condotto da Ezio Greggio, uno dei volti storici del telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci. Ezio Greggio lascia Striscia la notizia, ecco chi arriverà. Possiamo anticiparvi, infatti, che dal prossimo lunedì 8 gennaio al fianco di Michel Unziker al timone della trasmissione di Canale 5 ci sarà nuovamente Jerry Scotti, che ha già condotto in passato il programma seppur per periodi decisamente brevi. Ebbene quest'anno Jerry Scotti, terminato l'impegno in tv con The Wall, il nuovo game show di grande successo del preserale di Canale 5, si cimenterà per un mese nella conduzione di Striscia la notizia, ritrovando la sua cara amica Michelle con la quale ha già condotto diverse edizioni di Paperissima in Prime Time. Jerry Scotti e Michel Unziker saranno al timone di Striscia fino al prossimo 3 febbraio, successivamente poi la showgirl Svizzera dovrebbe essere impegnata in Prime Time con la conduzione del Festival di San Reno assieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Fabino. Ecco allora che al timone di Striscia arriverà la coppia composta da Piccarra e Piccone, anche loro ormai diventati dei presentatori a birr poco storici del fortunato telegiornale satirico di Canale 5. I nuovi conduttori di Striscia la notizia dall'8 gennaio. Nessuna preoccupazione, invece, Terezio Greggio, sebbene il conduttore lascerà alla conduzione di Striscia la notizia, possiamo svelarvi che ritornerà di nuovo in video a partire dalla prossima stagione televisiva, dove ritroverà al suo fianco l'amico Sociao, Enzo Iarchetti con il quale compone la coppia più bella del mondo di Striscia, così come cantano loro stessi. Un cambio conduzione, che era tra l'altro già previsto dall'inizio di questa stagione di Striscia la notizia, che in media sta ottenendo un ascolto pari a 5 milioni di spettatori a serata con picchi di oltre 6 milioni e del 23% di Share. Ascolti decisamente importanti per Canale 5, visto che Striscia è quasi ogni giorno il programma più visto della giornata per la rete. Su Rai 1, invece, proseguirà l'appuntamento con il game show soliti ignoti condotto da Amadeus, che quest'anno sta ottenendo ascolti molto importanti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!